Da un lato i sindacati dei pensionati, dall'altro l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore alle politiche sociali Filippo Linzi con la struttura degli uffici. Si è tenuto nella sala giunta del comune di Crotono un incontro per confrontarsi sugli interventi nel delicato settore dell'assistenza alla persona e non solo, momento utile anche per fare un bilancio delle attività già poste in essere e su quelle che verranno. Non è da oggi ma li stiamo seguendo da quando si sono insediati perché con il fatto del commissariamento, con i problemi che ci sono stati nelle passate giunte, i passi avanti non se ne facevano. Dobbiamo dare atto a questa amministrazione che si sono sforzati adeguatamente, alcuni risultati sono già arrivati e sono positivi, altri ne arriveranno nei prossimi mesi anche in relazione al piano PNR nazionale e europeo. Vediamo le cose che vanno in senso positivo, noi siamo qui per vigilare e per portare un aiuto a una categoria, quella degli anziani, che ne ha sempre più bisogno. Quali sono le principali esigenze che i pensionati, gli anziani, manifestano ai sindacati? È quello di non andare fuori Crotone per curare la propria vita, di non fare trasferte grosse, lontane, di togliere soldi anche al territorio perché se non ci sono le strutture uno è costretto ad andare fuori. Andare fuori costa, andare fuori molte volte costa anche per altre difficoltà che non sono solo economiche ma anche di adeguamento a quelle che sono le esigenze dell'anziano nel territorio crotonese. C'è tanto da fare in questo settore? C'è tantissimo da fare in questo settore, qui oggi siamo nella veste non di incontro con il comune di Crotone ma con l'ambito territoriale e sociale che rappresenta ben sette comuni così come abbiamo fatto nell'ambito di Mesoraca e di Cirò ma anche in quello di San Giovanni in Fiore che vede al suo interno ambito quattro comuni della provincia di Crotone. Stiamo incontrando tutti gli ambiti perché le politiche sociali ormai si fanno negli ambiti si fa l'integrazione dei servizi sociali e c'è la necessità quindi di far sì che si spendano quei soldi e sono tanti che arrivano al sud per ridurre il gap tra nord e sud sulle politiche sociali. Tematiche importanti che riguardano i cittadini soprattutto gli anziani e di vulnerabili per l'assessore Pollinzi la parola d'ordine è dialogo. Assolutamente sì, l'abbiamo presa come impostazione all'inizio abbiamo lavorato insieme con i sindacati e con gli enti del terzo settore sui tavoli tematici per la redazione del piano di zona che è lo strumento di pianificazione principale e credo che sia giusto continuare a farlo. Grazie a tutti.